Bene, vediamo adesso in questa seconda parte della lezione come nascono i comuni. Abbiamo detto che i comuni nascono all'interno di quei territori dove il potere centrale, il potere dell'imperatore ma anche dei feudalcari comincia a diventare più deboli. I borghesi, diventati sempre più importanti all'interno delle città, cominciano a ribellarsi, vogliono ottenere una maggiore indipendenza, una maggiore libertà, non vogliono più sottostare quei diritti di banno che i feudalcari esercitavano sulle città stesse. Quindi essi si allie inizialmente con quello che era una milizia, un gruppo di, chiamiamolo, un piccolo esercito cittadino, con i soldati che i feudalcari stessi avevano creato per difendere le città nelle loro guerre. I borghesi e la milizia cittadina si uniscono in un'associazione armata, dandosi, giurandosi reciproca solidarietà, e loro chiamano questa sorta di associazione appunto comune per combattere contro quella che era l'autorità del signore feudale, del feudatario nel cui territorio sorgeva la città stessa. I comuni quindi in unione con la milizia cittadina si liberano da molti vincoli, da molti obblighi che il signore feudale prima esercitava e ottengono quindi una serie di libertà. Si liberano dalle taglie signorile, quindi da quelle che erano dei pagamenti, riescono a ottenere di poter amministrare loro la giustizia, di coniare la propria moneta, di ampliare le mure cittadine, quindi diventano di fatto dei piccoli stati autonomi, come un po' le città greche di una volta. Una volta che ottengono la libertà, i comuni devono decidere come organizzarsi, come amministrarsi, e in un primo tempo, diciamo, vedremo che ci sarà un'assemblea, ma con un governo affidato a due consuli che duravano in carica circa un anno, e poi una seconda fase, vedremo perché, che viene detta podestarile, dove l'incarico viene dato appunto a un podestà. In un primo periodo, il comune, siamo nella prima parte del XII secolo, intorno al 1100, il comune ha la forma di una sorta di repubblica, quindi il potere era in mano alla maggior parte dei cittadini, che leggevano un'assemblea di cittadini. L'assemblea a sua volta leggeva i consuli, cioè i magistrati, che potevano essere anche sessante, che prendevano decisioni riguardo alla vita del comune. Questo governo aveva come, diciamo, ideale la democrazia di Atene e di Roma. Tutti i cittadini facevano parte dell'assemblea, ma non, diciamo, le donne, non gli apprendisti, va bene, i salariati e gli schiavi, che erano considerati, infatti, non appartenenti ai cittadini, erano quindi esclusi. In genere, all'interno del comune, in questa prima fase, le famiglie dei grandi borghesi cominciarono però a farsi una lotta, spesso cercando di costruirsi ognuno una torre più alta dell'altro per dimostrare di essere una famiglia più potente dell'altra. E anche se vennero fatte anche delle ordinanze per limitare l'altezza delle torri, ci fu una grossa rivalità tra le famiglie, tanto che pian piano nacquero delle vere e proprie fazioni, delle guerre interne, delle faide, delle vendette. E per far fronte a questa situazione, si arrivò alla decisione di chiamare un podestà, cioè un uomo di prestigio che proveniva da un'altra città, che quindi fosse in grado di governare e di porre fine a queste lotte tra le varie famiglie. Siamo così nella fase podestarile intorno a circa il 1200 del XIII secolo. Benissimo. Ok, qui abbiamo di nuovo la linea del tempo che ci mostra cosa è successo. Le città diventano liberi comuni, prima erano sottoposte al nobile Fodatare re, poi i borghesi vogliono essere sempre più autonomi, si associano e cominciano a governarsi da soli, prima eleggono i consoli e poi appunto un podestà. Quest'uomo che è al di sopra delle parti era in grado di governare. Chi viveva all'interno del comuni erano persone di origine sociale molto diversa. In genere possiamo raggrupparle in quattro gruppi sociali. Da un lato c'erano i magnati, i nobili, i proprietari di terra nelle campagne circostanti la città, il popolo grasso, che erano i borghesi più ricchi, i mercanti, i banchieri, i proprietari di manifatture, il popolo minuto, che erano i commercianti, i piccoli artigiani, e poi gli operai che lavoravano in queste piccole imprese, in queste manifatture, gli immigrati e i poveri. Analizziamoli meglio. I magnati erano persone di origine appunto nobile, in genere non lavoravano, ma vivevano grazie alle rendite immobiliari, cioè magari al fatto che possedevano dei terreni, quindi vivevano di quello che veniva venduto, facevano lavorare altre persone, non avevano pure semplicemente dal loro patrimonio. Poi c'era il popolo grasso. Il popolo grasso erano coloro che non avevano origini nobili, avevano in genere delle professioni piuttosto elevate, uomini di legge, giudici, mutai, medici, e si organizzavano incorporazioni che si imavano le arti. In genere chi amministrava il comune apparteneva a questo gruppo sociale, e a questo gruppo sociale appartenevano anche gli intellettuali, quelli che potevano appunto dedicarsi allo studio. C'era poi il clero, che era composto appunto da coloro che appartenevano o al cosiddetto clero secolare, quindi la gerarchia cledastica, oppure a coloro che entravano nei monasteri, che si chiamavano clero regolare perché seguiva la regola di San Francesco. Poi c'era il popolo minuto, che era composto da coloro che facevano, svolgevano dei mestieri un po' meno remunerativi, cioè un po' che si guadagnava un penino i bottegai, gli impiegati, i piccoli funzionari. Poi c'erano i lavoratori, che erano persone che prestavano il lavoro nelle botteghe o anche a domicilio. Non erano proprietari di una bottega, ma lavoravano tenendo un salario. Non avevano i diritti politici, non si organizzavano neanche loro incorporazioni. Poi nelle città, nonostante questa ripresa, c'erano quelli che qui vengono definiti gli invisibili, i più poveri, quelli che non avevano nulla, anche i mendicanti, vivevano di carità, anche di piccoli furtarelli, di attività illecite. Bene, ricapitando quindi i comuni, nel momento in cui c'è una ripresa delle campagne dei commerci, le città si ingrandiscono, all'interno di queste si formano, meglio al di fuori di questo, nel loro contado, al di fuori delle mura, si creano dei quartieri dove vengono ospitate le persone che venivano dalle campagne. All'interno, diciamo, questi quartieri erano chiamati borghi e coloro che ci abitavano verranno chiamati borghesi. Erano artigiani, mercanti, anche dei contadini che andavano poi a lavorare come artigiani, o vivevano nei comuni e poi in città, e poi si trasferivano in campagna a lavorare. Cosa succede in queste città che sono rinate? Alla fine dell'undicesimo secolo, la borghesia si afferma, diventa sempre più importante, e cerca quindi di essere man mano sempre più indipendente. Allora, i comuni si affermano nell'Europa settentonale, nel nord, dove viene fondata l'associazione dell'ANS, e nell'Italia 171, nel centro nord. I borghesi decidono che è giusto che loro si governino da sola, del resto l'imperatore non è molto presente, perché è impegnato in Europa centrale, in Germania, a lottare con i signori locali, quindi loro si vogliono rendere indipendenti. Si organizzano incorporazioni, danno vita ai comuni, abbiamo detto, che prendono delle decisioni. Di cosa si occupavano? Degli squadre alle tasse, dell'ordine pubblico, della giustizia, di battere monita. Tutti, diciamo, diritti che erano dell'imperatore, ma visto che l'Italia, proprio dell'imperatore, perché d'Italia apparteneva all'impero germanico, ma l'imperatore era lontano, non riesce a imporre la sua volontà, e quindi i comuni pian piano prendono man mano sempre più potere. Abbiamo detto che erano le corporazioni che si univano poi in associazione anche con le milizie cittadine per chiedere l'indipendenza. Allora, queste corporazioni erano divise, abbiamo detto, in popolo grassi, in popolo minuto, nella plebe, che però era escluse dal governo. Chi esercitava il potere era appunto il popolo grasso. Vedremo poi quali erano queste corporazioni. Abbiamo detto che i comuni all'inizio erano governati dai consoli, magistrati scelti fra cittadini più importanti, cioè il popolo grasso. Poi, quando cominciarono a esserci delle lotte troppo violente, a partire dal XII secolo, ci sarà la decisione di dare il potere a un magistrato di un'altra città, un podestà. Poi, alcuni comuni vivono intorno alla metà del 1200 un'altra fase in cui anche il popolo minuto entra a far parte del governo e quindi ci sarà quella che viene definita una fase popolare per cui anche il popolo minuto ha un suo rappresentante che è il capitano del popolo. Abbiamo anche detto che lo sviluppo del comune favorirà anche lo sviluppo della cultura, ma lo vivremo successivamente. Adesso vediamo cos'erano le corporazioni divise in arti maggiori e arti minori. Praticamente, coloro che esercitavano il commercio si univano in associazioni come i mercanti e i pellicciai. Quelli che si occupavano di legge erano i giudici e i notai, che si occupavano di medicina erano i medici e gli speziali e poi qui vedete gli altri. Qual era lo scopo? All'interno delle corporazioni si davano delle regole per fare in modo che non ci fosse troppa concorrenza tra chi esercitava la stessa professione. Esempio, chi ad esempio faceva il calzolaio si diceva che le scarpe che dovevano essere prodotte dovevano avere una certa qualità determinate caratteristiche in modo tale che non ci fosse qualcuno che lo vendesse magari risparmiando sulla qualità a un prezzo troppo più basso. quindi riuscendo a avere poi più affari magari a scapito della qualità del prodotto quindi si davano tutta una serie di regole ben precise. di regole ben precise. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.